Ultima giornata del girone d'andata del campionato di Serie D regionale, in cui si sfidano Cavale Tirreni, quinta forza in classifica, ma reduce da una sconfitta a Curti, e Rocca Rainola, anch'essa proveniente da un K.O. in casa. I padroni di casa approcciano alla grande il match, realizzando due canistri consecutivi con il numero 30. Un po' di imprecisione da parte di Rocca nei primi minuti. Giovino però sblocca il punteggio per gli ospiti, portando i suoi sul meno 4. Diversi errori per i black ospiti consentono ai bianchi di casa di piazzare un parziale di 12 a 3 minuti dal termine del primo quarto. Capitano Napolitano prova a dare la scossa ai suoi, realizzando 6 punti consecutivi, ma Cavale Tirreni non molla un colpo e chiude il primo quarto sul 21-11. Cerullo apre il secondo quarto con un bel canestro. La partita sembra molto più equilibrata rispetto al primo tempo, con Rocca più dentro alla gara. Quattro punti a testa nei primi 5 minuti. Rocca spinge, prima con Giovino e poi con Esposito si porta sul meno 5. Il numero 30 di casa, uno dei migliori, indovina un'altra tripla. I canestri si alternano sul finire del tempo. Le due squadre vanno così all'intervallo sul 34-28. Al rientro all'intervallo lungo, Rocca accorcia di 1 il parziale. Del basso, con un gran tiro, porta i black ospiti sul meno 2, ma è temporaneo perché Cavale Tirreni riparte e realizza. Nonostante un inizio molto complicato, Rocca reagita alla grande, le due squadre si alternano i punti nel terzo quarto. Rocca è più che in partita e mette molto in apprezzione i padroni di casa, fino a quotarsi sul meno 1. Gli ospiti chiudono alla grande il tempo e passano addirittura in vantaggio, si va quindi all'ultimo quarto, sul 50-52. Nell'ultimo quarto, Rocca riesce a gestire e a piazzare addirittura un parziale di 7. La reazione dei padroni di casa, dopo vari tentativi, si concretizza e alla fine riescono a vincere una partita molto sofferta, forse più del previsto. Rocca esce dunque sconfitto 78-75, al termine di una delle migliori prestazioni stagionali, contando anche i vari indisponibili. Testa ora al prossimo match in casa contro Benevento.